adesso sta registrando ok inizio discesa pericolosissima è partita non so se arriveremo in fondo occhiali e via curva a sinistra curva a destra vai neve è bagnata dai 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 matta dai si patta dai canto non non faccia lì che velocità dai celera trafica in pista dai 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 porta porta dai siamo quasi arrivati ultimo muro forte arrivo bravo